Io voglio, un attimo signora, finisco subito la persona, io chiedo a qualcuno, dov'è Paoloni? Paoloni, tu vieni un attimo l'amico, no vieni un secondo, ma reggi tu, simbolicamente proprio per mettere a nudo, rimanendo in abiti consoni perché c'è la sacralità, solo perché ho caldo, ovviamente simbolicamente voglio fare una, chi regge me la reggi tu, grazie, Allora, perché è giusto le cose fatte, ma questo è normale, è genio, no, 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 ma rimango a vestito signora, consentite di vedere se è tutto quanto nascosto, E' finito, è finito, lo spogliarello è finito perché si deve rispettare la minorità, cosa che Facebook e la televisione non fa, perché basta che uno accende internet e lo dico a te, quanti anni hai? Quanti? Non hai un profilo su Facebook, mi raccomando non aprirlo, perché se tu hai 3.000 amici, ma che te frega, tu ti connetti a internet, se a un certo punto ti scrive Mario da Milano che dice che ha 12 anni, come fai a sapere che hai 12 anni e se ne ha qualcuno in più e sei una persona cattiva? Quindi, secondo me, visto che io spesso incontro tanti ragazzini che hanno Facebook, io gli dico chiudetelo, ma non si può avere Facebook a 12 anni, ma vogliamo scherzare? Allora io, per concludere, questa simbolica, chi è che può vincere? Dove sta? Signore, allora, io devo, i vestiti chi ce l'ha? Allora, signore, la dispersione del sale grosso, in quanto, come ho detto prima, con il nome di Fabio Giacomet, Fabio Fucci, Fabio Fucci, allora, io sono qui alle 20.30 prima dell'inizio, ma io vedo un cagnolino, ma come si chiama? Luna, ma Luna, ma io, ma io mi scuso, ti prego, guarda che io sono molto sensibile, no, ma cosa vai, ma cosa, ma vai a Milo Fede, la borsa, la borsa, dove è la borsa? Luna, io sono, noi uomini, siamo periculi, guarda che adesso non mi abbaio più, eh? Vieni, guarda, vieni qua, Luna, ma io ti stavo, mi stavo scusando con te, mi stavo scusando con te, con chi vi abbandona, tu devi bagliare Milo Fede, non la pari, ma che cosa fai? Ho capito che so strano, però non è che so matto, ora, io non accetto da me, fa male il dolce, lo so? Non lo so se l'accetta, ma sì! Ecco, la paraculagine acuta anche nostra, non si, ma come, da mai non te stossare, mancia! Allora, io, per concludere, proprio così calo in maniera calorosa, voglio lanciare sto sale grosso, ma anche addosso al canno, e oggi, lo voglio dire qua, oggi, chi dove sono? Io ve lo dico in maniera categorica, Fabio è il nuovo sindaco di Prometzia, già adesso, prima ancora le elezioni, evviva! Allora, io concludo la foto, e chi è che ha scato? C'ho sale fine! Grosso, io Fede con tu no! Io spiego, innanzitutto, il cronino non fa la scuola, la scuola non si fa solo nella foia, però io perché ce l'ho tanto con i migliorfede, non perché l'odio, perché io sono con i migliorfede, ma voi immaginate che il migliorfede è nudo? Scusatemi, povera moglie, quindi il cronino è anche permesso. Allora, io ovviamente vorrei concludere andando a salutare un giro della piazza, perché io ho un caldo tremendo, un po' di acqua sciacca oppure una bottiglietta di acqua.